Sì, l'ho finita primo! Amici, dopo tantissimo tempo, torna finalmente sul mio canale, ma tipo tantissimissimo tempo, Rainbow Six Siege con, con, la nuova stagione. Quindi oggi andiamo a farci una partitina, sperando di vincerla, e andiamo a scoprire tutte le novità, le cose più incredibili della storia e iniziamo. Speriamo di vincere. Signori, benvenuti nel menu ufficiale della nuova stagione. C'è anche il Battle Pass, ma al momento non ci interessa, che dura 38 giorni bene. Tra l'altro qua vediamo 10 novità incredibili, non le andremo a vedere tutte, è una roba veloce, tipo la ricompensa. Spannullare la partita, sensibilità, bla bla bla. E tra l'altro la cosa figa sono i 10 rinforzi. Oh, figo le nuove cariche di irruzione di gadget secondario. E vabbè, cose che al momento ci interessano, ma relativamente. Tra l'altro c'è anche 22 pacchetti, in caso fatemi sapere se volete che li spacchetto tutti. E oh mio Dio, ho parlato talmente veloce che mi manca il fiato. Nuovi operatori, c'è il buon Sam Fisher, che non posso prendere, mi sa. Esatto, devo aspettare 5 giorni, quindi niente, non possiamo utilizzarlo. Ma adesso vi faccio un mega taglio e andiamo a fare una bella partitozza in classificata, sperando di vincerla a dopo. No, che figata, si può bannare la mappa, yes. Sì, finalmente, confine mi piace un botto, costa un botto. Parco, via via. Oh, banniamo parco, signori, che fa vomitare. Fatemi sapere voi cosa avreste bannato. Allora, vi avrò fatto sicuramente il taglio, siamo già nella fase d'azione, e io metto le mani avanti e non gioco a Rainbow da un bel po'. Perciò potrei far totalmente vomitare. Vabbè, bene. Iniziamo benissimo. Primo round perso, erano 2v1, si sono fatti uccidere, ma vabbè, diciamo che io sono morto subito, quindi devo stare zitto. Che palle, che palle, la vedo dura. E sto giro lo spawno dall'altra parte, no? Perché che cacchio. Allora, il Frost lo voglio spaccare da qua, perché, a parte il mega casino che non so se voi sentite, magari ho abbassato l'audio, c'è il tizio in bagno. È morto? È morto, ok, posso entrare. Vai, uno qui, uno qui, e spostati, ti prego Ash, uno qui. Perfetto. Mori! No, dai! Dai! Com'è possibile che non l'ho preso? Che palle, ma poi mi hanno dato l'olografico dal tizio. E niente, comunque, senza team, è impossibile. Cioè, non so se quelli contro sono in team o no, e non so neanche se quelli nella nostra squadra sono in team. Fatto sta che è impossibile. Allora, è iniziato, ho preso Toucher, e mi sa che... Ok, ho preso anche Valkyria. Muore! Muore! C'è lì un tizio. E ma io ho paura che ci esca andrà dietro. Vai, spara, spara. Ok, l'abbiamo visto chiaramente tutti. Oh, yes! Oh, bene, bene. Questo attacco è andato bene. Dai, devo rientrare in forma, così almeno qualcosa di interessante lo possiamo fare. Oh, io ho l'ultima kill. Addio, mute, a casa. E ora siamo in difesa. Beh, dai, uno in attacco ci può stare. E adesso volevo farvi vedere la figata in difesa, ovvero delle dieci barricate. Così, se c'è qualche compagno un po' scemotto che decide di non barricare, Sbam, che interveniamo noi e gli piazziamo la barricata. Ora, vediamo cosa prendono i nostri amigos. E prendo Mira. Allora, prenderei Mira perché da idioti non hanno bannato Thatcher. Quindi, appunto, un Mira può sempre essere utile. Oh, si sono uccisi! Godo, Godo, un botto. Allora, ho fatto il doppio Mira. Credo che loro abbiano Thatcher. A meno che non è quello che è morto. E vediamo come va a evolversi. Perfetto. La situazione. Ma mi sa che attaccano tutti da dietro, eh. Sono abbastanza sicuro che passino da dietro. Quindi sono inutile, eh. No, 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 dai. Non l'avevo visto. Dio mio, che palle. Oh, prendo Mira e non serve a niente. Dai, attaccano sempre tutti da davanti. Che fastidio, vai, muorici, bravo. Dai, 3v1, per forza. Per forza. Per forza. Oh, zi, è a sinistra. Oh, Ligion. Ligion. Non ci credo, abbiamo perso. Non ci credo, che imbecilli. Che imbecilli si sono fatti fare in 3. No, dai. Non è possibile. Non ci... Non è possibile, erano in 3. Dai, basta, abbiamo perso questa minchiata. Dai. Vabbè, che sono ultimo, sto facendo cagare, però. Dai. Dai, 5v3. Oh, sto giro non possiamo perdere. Cioè, proprio, è impossibile. Guarda quanti... Oddio, doppia. Oddio, che culo. Che bene, che bene. Oh, dai. Oh, 5v1. Siamo 5v1. Non possiamo perdere. In teoria. Cioè, anche prima eravamo in 3v1 e non potevamo perdere. Però è andata come è andata. Uh, yes! Alla fine. Bene, bene, bene. Vabbè, voleva rimanere lì per non darci la kill. Ci sta fatto bene. Tanto era il tipo quello lì con 7 kill. Però è morto. Buono. Oh, sto recuperando. Siamo già a 4... Cioè, già. Sono a 4 killer. Ho una. Ne ho fatte 3 in questo round. Bene. Ora, vediamo di vincere anche questo. Andiamo ai supplementari e il video durerà un casino di tempo. Bene, perfetto. Ok. Si sono nuovamente uccisi. Ma che imbecilli! E sappiamo che hanno anche Buck, tra l'altro, per l'arma. Eh, niente. Ci stanno fucilando tutti. Da dove ci stanno attaccando? Da dietro, mi sa. Ma tipo che me ne sto camperato qua dietro per sempre. Uh, a terra! A terra, a terra, a terra! Dai, muori! Ok. Mi serve assolutamente... Ma dove è andato l'altro idiota? Ma guardalo lì! No, è un idiota. Abbiamo perso. Guardalo lì! Guardalo lì! Dai, con un operatore normale l'avrei ucciso. Ma... Eh, va bene. Niente, signori. Siamo 1v1. Sì! Ok. Bravo, Master! Uh! Dai... Ma quel... Chi è? Quell'Igions è un imbecille totale, quell'Igion. Un'idiota totale. Comunque il Pompari Smoke, fortissimo. Supplementari, buono. Supplementari, buono. E abbiamo anche recuperato. Bene. Ok, ce l'ho qua a sinistra. Lo sento chiaramente. Dai, non posso sbagliare. Ah, mi sa che non ci vuole dar la kill. Vabbè. Ok. Bravo. Oh, signori, stiamo rimontando. Stavamo perdendo 3-1. Eh, mi sono anche un pochino svegliato con le 7 kill. E dai, ci sta. Ultimo round, si spera. Speriamo l'ultimo round. Siamo in attacco. Quindi io mi prenderei tranquillamente un Thatcher. E basta. Speriamo che prendano Thermite i nostri amigos. Sì, godo. Godo. Godo un botto. Godo un botto. Era il più scarso, eh. Però godo un botto. Allora, come prima, sto giro però non sono morto. Lanciamo un bel Thatcher, sperando che non ci scanda sotto. E in teoria Thermite deve fare il suo sporco lavoro. Guarda, io ti parlo il chiuletto, Thermite. Ma tu vedi di aprire? Ok, lì c'è Ash. Qua ci sono io. Perfetto. Perfetto. Madò, che buchi. Madò, vai sparare wallbang. Nope. 5v3. Buono, buono, buono. È morto Bandit. Ed è morto Thermite. Ah no, è morto Sledge. Ed è morto Thermite. Ok. No, no, no. Mi son bloccato. Ah, mi son bloccato con la mira. No, abbiamo perso. Vabbè, 4 pari. Dai, mega partita. No, la rischiamo di perdere. Niente. Dai, sul 4-4 dobbiamo andare. Cioè, io pensavo fosse una partita veloce. Vabbè, faccio il registro. Vedo una roba veloce. Blah, blah, blah. 4-4. Vabbè. Siamo in difesa. Non mi ricordo che spot ci potrebbe essere... Cioè, c'è da difendere. Più che ci potrebbe essere da difendere. Vediamo, vediamo. In caso andiamo in sportelli. Ok. Facciamo cantiere. No, no, no. Oh, oh. Cosa votate contro i doganali? Vabbè, hanno votato contro i doganali. Ok. Che è quello di prima dove avevo smoke, mi sembra. Sì. Quindi, sto giro ci prenderei. Chi posso prendere qua? Allora, mi caccio un bel maestro. Vediamo se ha messo qualche mirino o no. Perché voglio mettere appunto... No, mira non serve a niente. Perché appunto voglio mettere il maestro lì dove stavano plantando prima. Magari può essere una buona idea. Magari no. Però ci proviamo. I tizi stanno aprendo da qua. Io spero, incrocio le dita che non mi entrino da dietro, mentre uso il maestro più che altro. E qua c'è un mega bordello. Ok, va bene. Però in teoria dovrei coprire. Bene. Si spera. Ok, buona. 5 v4. Sì, ma è una situazione decisamente schifosa per non dire altro. Quindi io entro... No, mi è rubato lo spot. No, mute. No. No, no, ne è entrato uno, amici. Ne è entrato uno. No. Non possiamo perdere ora. C'è uno qua. Bene, bene. Si è distratto col maestro. Credo. Da dietro non mi entra nessuno. Vabbè, facciamo che mi sdraio per sicurezza. Qua c'è la guerra. C'è la peggio guerra. Ok, uno è andato. Ma non può venirmi ad aiutare, Mira. Così, giusto per dire. Oh. No, dai, Mira, ti prego, vieni ad aiutarmi. Ok. No, 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 no. Sì. Sì. Ma do. Ma do che ansia. E sono finito primo. Sì, l'ho finita primo. Dai. Ma do che ansia. Signori, vittoria sofferta, come ci suggerisce la scritta. Siamo arrivati primi. Yes. Totalmente a caso. Sono partito malissimo. 9 kill e 2 assist. Bene, una kill a round di media e 4 morti. Buono. Quindi, signori, io tolgo tutte le cuffie. Ma do che stanchezza. Sono stanchissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una partita soffertissima. Sarà durato tantissimo. Vi ringrazio per la visione. Vi do appunto detto domani alla solita ora vero due e un quarto con un nuovo video. Ciao. Basta. Bah, sono stanchissimo. Sto morendo dentro.